parliamo dell'inter che tra l'altro insomma ieri che cosa si ha vinto nel senso ha creato anche buone occasioni però c'è da dire c'è da dire che comunque il rigore almeno da quello che leggiamo qui nelle varie rassegne stampe non c'era su cosa quei suoi giocatori per quale cagione perché ha cagione che ha detto 25 minuti alla fine abbiamo smesso di giocare siamo stati presuntuosi abbiamo fatto abbiamo detto questo è il nonno rischiare pareggiano sì sì effettivamente anche perché poi l'intero che ha trovato il gol con un tiro della domenica insomma di podolski bellissimo primo gol in Serie A e diciamo che Totò di Natale che meraviglioso calciatore sono numeri importanti raggiunto Roberto Baggio io se fossi un presidente di una squadra che vuole puntare lo scudetto io prenderei di Natale Luca Toni un'ala che fai grosse perché servono comunque un liberaccio di quelli di una volta che comunque fai il lancione davanti le toniche spizza per di Natale un trequartrista un trequartrista e l'ha fatto che c'è le squadre si fanno così il finto 9 oggi esiste il finto 9 ma allora la gente di casa del passato di Vali di Pruzzo, Bette, Caltobelli, Vambassi, tutti coglioni, tutti coglioni che ci salvi i campi sì sì un saluto a tutti un saluto al carico arrivederci ciao